Mister, la domanda è un po' la stessa che abbiamo fatto a Espinalla, avrebbe immaginato un inizio così? La neopromossa contro una delle squadre favorite per la vittoria del campionato, alla fine ha vinto la neopromossa? Beh, non penso che sia una questione di neopromossa, ormai siamo tutti in questa categoria e quindi ci dobbiamo stare, ci dobbiamo giocare, ci dobbiamo difendere e attaccare nel senso che comunque abbiamo fatto un primo tempo un po' preoccupato, forse anche per questo motivo qua e non eravamo liberi di esprimerci, eravamo un po' frenati, poi nel secondo tempo invece siamo riusciti a fare un po' di più e ho detto ragazzi fino al primo tempo andate a casa che siete contenti, al di là del fatto che si può perdere però almeno giocatevi la partita e andate a casa che siete contenti, poi se la perdete va bene l'importante è che facciano le cose, poi nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosa in più, molte cose in più e è andata bene Ecco, chi guarda solo il tabellino vede i gol di Espinalla, un dato che però magari rischia di offuscare una prestazione della squadra perché tutto sommato per essere la prima gara ufficiale della stagione è stata soddisfacente Beh, ma lui comunque ha un ruolo che è di finalizzatore, lo ha sempre fatto bene quindi è normale che sia più lui a concretizzare l'azione ma sì, come dici te, hanno fatto bene veramente tutti, anche quelli che sono entrati mi sono piaciuti molto sono entrati bene e abbiamo sofferto alla fine perché comunque la condizione per tutti non è logicamente ottimale però sapevo anche che comunque in questo periodo di campionato di Coppa, in questo periodo di agosto le partite le vinciscono nel secondo tempo e nel primo insomma devi cercare di limitare i danni Fatta la preparazione, disputate le prime amichevoli, questa è la prima partita vera diciamo che risposte hai avuto dalla squadra dopo il lavoro del mese scorso? Beh, guarda, questa vittoria ti aiuta molto perché comunque l'hai ottenuta poi cercando di fare un po' le cose che facciamo durante la settimana quindi ti dà più forza e consapevolezza di quello che possiamo fare il nostro percorso lo stiamo facendo, lo stiamo facendo bene, di crescita e quindi ci dà solo che fiducia, morale nel lavoro che facciamo e quindi poi quando arrivano le partite, soprattutto quelle che valgono bene valgono i tre punti, se hai la possibilità di vincere con una squadra forte come l'Imperia ti dà ancora più soddisfazione e forza per il proseguo della Coppa intanto